Ciao, benvenuti su YouTube da Gold Unicorn Art Tarot. Oggi il titolo del video di Tarocchi è La prima cosa bella che ti arriva dalla vita, prendendo spunto da una canzone famosa. Allora, abbiamo le nostre due stese oggi, partiremo con questo mazzo e ne metteremo tanti altri. Allora, abbiamo la stesa numero 1 che corrisponde al 4 e la stesa numero 2 che corrisponde all'8. Vi ricordo sempre di guardare questo video per ispirarvi nella vostra manifestazione. Ricordatevi che sono video collettivi, quindi per ognuno, soprattutto i tempi, possono essere diversi. E sempre che trovate la mia e-mail per consulti sotto in descrizione. Quindi andiamo ad incominciare con la stesa numero 1, che la metto qua, il 4, e andiamo ad incominciare a vedere che cosa si apre nell'invisibile per poi manifestarsi al momento giusto. Allora, incominciamo con questa. Voglio mettere anche queste, che sono carte molto simboliche. e poi andiamo avanti. Qui tutto può succedere. Siamo nel più totale inizio di qualcosa, fine di qualcosa. Molto si apre, molto può accadere, tutto può essere ancora creato. Diciamo che nell'invisibile in questo momento c'è una grossa energia, una grossa forza. Andremo naturalmente poi a vedere cos'è che arriva, cos'è questa prima cosa bella che ti arriva dalla vita. Beh, direi che c'è molto movimento. Ci sono tante piccole cose che si stanno riunendo dentro di te e fuori di te e intorno a te. Queste cose che si stanno riunendo creeranno una strada per te che è già dentro di te. È come se il tuo inconscio lo sapesse già. Andiamo un po' a vedere di più. C'è molto di ciò che non ti aspetti, nel senso che secondo me il tuo inconscio lo sa, ma tu non te lo aspetti. Tant'è vero che in questo è un momento della tua vita in cui tu pensi che stai vivendo un momento pesante. Quindi secondo te ciò che tu vorresti non si manifesta o se si manifesta si manifesta col tempo. Insomma, dentro di te c'è un po' di fermento e di tormento. Ma non è un male perché tutte queste cose che sono dentro di te è come se adesso trovassero un'energia si riunissero e trovano proprio una strada. Quindi questa strada diciamo è proprio all'inizio. Quindi io adesso voglio proprio vedere visto questa energia che si sta diciamo creando voglio vedere che cosa si apre. Voglio anche vedere se arriva qualcosa dal passato dal futuro. Vediamo tutta questa energia questa vibrazione che tu adesso la percepisci anche un po' come insoddisfazione agitazione però c'è qualcosa che veramente sta sorgendo di nuovo. Vediamo un po' che vibrazione ha. beh direi che intanto qui c'è una forte potenza che ti darà perché qualcosa si sta creando ti darà proprio una centratura. Tu a un certo punto da questo momento di confusione che hai avrai le idee chiare e dirai ma io con tutta questa vibrazione questa energia posso fare diverse cose tante cose posso fare sentirai proprio avrai proprio un'illuminazione quindi avrai un'illuminazione ma sul tuo cammino su qualcosa che ti sta proprio arrivando e questa cosa tu gli dai il permesso di arrivare perché tu stai aprendoti al punto che permette a questa prima cosa bella che ti arriva e naturalmente i tempi sono quando voi siete pronti perché questa cosa arriverà quando tu che stai ascoltando sarai pronta però tutto si sta creando avrai proprio un'intuizione e su questa intuizione ti si apre una strada molto chiara quindi adesso io voglio vedere se ti arriva qualcosa di specifico con tutta questa vibrazione energia apertura e tutta questa forza secondo me toglie proprio le nuvole che ci sono nella tua vita quindi voglio vedere dove ti stai incamminando o cosa stai manifestando qualsiasi cosa ti stia succedendo qui c'è un monito ti dice che tu supererai gli ostacoli che adesso ci sono nella tua vita perché la strada sarà chiarissima questa illuminazione che ti arriverà su ciò che devi fare su questa vibrazione potente ti darà proprio la chiarezza molte persone stanno aspettando anche qualcuno però qui accade qualcosa c'è qualcosa qui che arriva diciamo dal tuo passato che tu stai aspettando oppure è qualcosa che è dentro di te da molto tempo ma che tu non hai mai diciamo espresso nel modo giusto perché hai sempre avuto appunto degli ostacoli potrebbe essere anche qualcosa che riguarda il tuo talento per adesso le carte dicono che appunto tutto si schiarirà tutto verrà chiaro e improvvisamente tutte le difficoltà che hai avuto si solleveranno se ne andranno da te qui c'è anche l'amore che arriva qui parla proprio di di amore l'amore potrebbe essere sì l'amore universale ma potrebbe essere anche l'amore personale quindi adesso io voglio vedere dal passato o dal futuro se questo amore arriva dal passato oppure arriva dal futuro molti stanno aspettando qualcuno del passato e non ci credono che arrivi ecco guarda qui c'è proprio un portale che si apre proprio sull'amore quindi direi che è tutto più concentrato sul futuro quindi anche se tu stai aspettando qualcuno dal passato non hai abbastanza fiducia che questa persona possa ritornare o arrivare in certi momenti ci credi in altri no nel frattempo il mondo ti prepara qualcosa di molto bello appunto una bellissima cosa la prima cosa bella o se non è la prima è comunque in cammino per te e qui c'è comunque l'amore ti arriva qui dice che ti arriva comunque in forma ma proprio proprio nel tuo cuore come se il tuo cuore a un certo punto superasse tutti i suoi rancori tutti i suoi stereotipi quindi sarai pronta davvero ad amare secondo me anche se tu stai aspettando qualcuno dal passato è probabile che arrivi qualcuno dal futuro se invece tu stai aspettando qualcuno dal futuro qui dice che qualcuno ti riempirà il cuore d'amore perché tu stessa lo avrai quindi adesso io voglio vedere di più tu starai comunque molto molto bene quindi questa energia ti fa arrivare dove vuoi questo in sostanza ti dicono questa speciale energia tu secondo me potrai scegliere tra la realizzazione dell'amore perché avrai questo cuore colmo d'amore tu oppure la realizzazione di un tuo talento o di un lavoro qualcosa che tu aspetti e a cui tieni molto infatti c'è proprio anche la possibilità di anche guadagnare del denaro ecco proprio quindi se tu stai aspettando l'amore e dai diciamo a questa energia la forma dell'amore di un compagno è più facile questa energia che ti arriva che sta arrivando che è ancora nell'invisibile ma è già qui diciamo è come se ti fosse data la possibilità di una scelta con questa energia tu ti concentri sull'amore e riuscirai ad ottenere molte cose infatti questa è la carta della felicità nell'avvenire proprio quindi qualcosa davanti a te però se tu ritieni che in questo momento sia più importante la tua autorealizzazione o un lavoro in modo particolare o il successo sul lavoro dove potresti avere avuto delle difficoltà secondo me puoi riuscire a realizzare anche questo quindi puoi riuscire a realizzare sia uno che l'altro andiamo a vedere ancora allora il mondo è uscito già due volte quindi rappresenta in questo tipo di domanda in questo tipo di energia che è uscita fino adesso rappresenta proprio quella strada chiara non è detto secondo me con questa bellissima carta che è uscita appunto due volte che tu non riesca addirittura a realizzare entrambe le cose sia per l'amore che per il lavoro o l'autorealizzazione o qualche tuo talento vediamo ancora qui c'è proprio dunque da questo momento in poi le carte si concentrano sull'amore quindi qui dicono che molto probabilmente la maggior parte di voi sceglierà la strada dell'amore quindi ci sarà proprio una persona per voi e vediamo di più su questa persona una persona che vi interessa molto molti aspettano proprio qualcuno dal passato quindi qualcuno dal passato è probabile che arrivi anche se le carte sono molto proiettate sul futuro in generale anzi ti esortano ad aprirti perché tu magari molti di voi ritroveranno qualcuno del loro passato ma molti secondo me che mentre aspettano qualcuno dal passato incontreranno qualcun altro qui qui c'è proprio qualcosa di nuovo che arriva perché ti sentirai molto molto bene quindi a un certo punto io direi che la persona nuova che arriva è una persona molto adatta a voi una persona che comunque vi aiuterà anche nella vostra vita o professionale o talentuosa che sia perché questo è anche un po' questo regalo di questa cosa bella che ti arriva dalla vita quindi una persona generosa ma che deve avere molto in comune con te oppure ha la facoltà di spingerti proprio nella tua vera strada e con amore naturalmente perché qui stiamo parlando di amore concludiamo concludiamo la facoltà allora qui ti dicono di fidarti di questa strada di questa energia che si sta aprendo davanti a te e di incominciare a visualizzarla la fisica quantistica in questo caso i tarocchi quantici dicono visualizza il processo quindi visualizzare il processo ma senza l'aspettativa proprio come se tu dovessi scrivere una storia o scolpirla anche quindi come se dovessi scrivere una storia ma come se una storia che non ti appartenesse più di tanto per non metterci la carica emotiva dell'aspettativa ecco quindi quando tu visualizzerai bene questo processo secondo me riuscirai a dirigere questa forza questa strada proprio dove tu vorrai quindi se vuoi il passato e qualcuno dal passato ci riuscirai se vuoi qualcuno dal futuro ci riuscirai intanto incomincia a visualizzare il processo perché le energie sono tutte pronte e in moto per te carissimi io vi ringrazio dell'ascolto e passo alla stesa numero 2 eccoci alla stesa numero 2 per chi ha scelto il numero 8 che lo mettiamo qua e anche per voi andiamo a vedere la prima cosa bella che ti arriva dalla vita vi ricordo che sono comunque sempre interattivi e di ispirarvi per la vostra manifestazione allora andiamo subito a vedere che cosa si apre nell'invisibile per poi manifestarlo ecco ricordati che tutto viene manifestato nel momento giusto per te prima di dopo c'è sempre un momento giusto quindi andiamo a metterci queste e queste allora che cosa si apre per poi manifestare per te un'energia molto forte ma nello stesso tempo equilibratrice ti sta arrivando quindi qui è una cosa che ti arriva proprio mi viene da dire dalla terra è un'energia che sentirai alle volte le vibrazioni le energie arrivano dal cielo alle volte arrivano dalla profondità della terra quindi un'energia molto densa molto calda che ti sta arrivando quindi è proprio qualcosa che sale dal basso verso l'alto e ti darà una forte intuizione su quello che dovresti fare in questo momento della tua vita qualcosa che adesso non lo sai ancora perché è una cosa che vorresti vedere ma lo dovresti percepire perché con gli occhi col terzo occhio con gli occhi degli invisibili dovresti percepire proprio già questa questa diversa energia perché è un'energia particolare tant'è vero che quando ce l'avrai chiara questa cosa ti stupirai molto quando avrai chiara proprio ti arriva avrai già il dono di intuizione già il dono dell'intuizione questo tu ce l'hai già però qui ti arriva proprio anche secondo me qualcosa sotto forma o di sogno oppure vedi qualcosa attira la tua attenzione potrebbe essere anche il titolo di un libro però c'è qualcosa proprio che vedi e ti fa intuire che cosa sta per accadere nella tua vita qualcosa di bello questa è una carta che ti dice che riuscirai a toccare proprio il punto giusto su quello che ti interessa naturalmente manifestare però qui c'è qualcosa in più che ti viene dato diciamo o donato sì questa intuizione ti farà mettere a fuoco una situazione particolare a cui tu pensi una situazione che forse in passato non sei riuscito a vedere perché la guardavi dalla mente quindi la giudicavi invece adesso la vedrai dalla pura intuizione qui abbiamo addirittura l'energia la vibrazione proprio di Osho quindi come dire che per te sarà un'intuizione chiara senza ombra di dubbio ma nello stesso tempo poi c'è la carta del mettere a fuoco quindi ma nello stesso tempo sarai calma allora questa forza che ti arriva questa energia che ti arriva è proprio secondo me un dono che tu stai sviluppando sempre di più che è proprio il dono dell'intuizione metti proprio a fuoco qualcosa qui secondo me quindi andiamo un po' a vedere di più se cosa riguarda questa cosa no qualcosa che è già in te e che viene sviluppata vediamo un po' molti di voi perché non può essere naturalmente uguale per tutti quindi dovete anche interpretare quello che che messaggio vi sta arrivando molti di voi pensano di aver da sciogliere dei nodi con una persona specifica potrebbe essere un amore potrebbe essere un'amicizia potrebbe essere una situazione lavorativa quindi molti di voi pensano di dover apportare qualcosa però fidatevi del vostro intuito perché in questo momento è molto potente il vostro intuito già ce l'avete ma in questo momento si svilupperà molto questo che vi stanno dicendo e molti di voi aspettano proprio l'amore qui aspettano l'amore nuovo passato andiamo un po' a vedere di più sì molti di voi aspettano proprio un amore speciale un amore specifico una persona che o hanno amato molto e stanno amando molto e in questo momento chi sta guardando voi che state guardando siete un po' pentite di aver detto o fatto qualcosa non che l'altra persona non ha fatto nulla però magari siete arrabbiati con questa persona però quello che mi stanno dicendo è che questa persona qualsiasi cosa abbia fatto nei vostri confronti l'ha fatta in buona fede perché qui viene un bellissimo re di coppe quindi una persona molto con la carta dell'amore vicino quindi una persona comunque che ci tiene molto a voi se invece voi state aspettando qualcuno che non conoscete eccolo qui comunque perché qui parlano di questa energia che vi farà avere delle forti intuizioni voi avete qualcosa da riguardare voi stessi per quanto riguarda le vostre azioni per quanto riguarda forse del giudizio qualcosa che è successo nella vostra vita qualcosa a cui porterete chiarezza e questa intuizione che avrete vi porterà dritta a questa persona a cui voi tenete quindi questa persona c'è può essere appunto del vostro passato o del vostro futuro io questa persona la vedo in completa buona fede qualsiasi cosa possa aver fatto è in completa buona fede questa persona continuano a uscire carte anche appunto amorose quindi una persona che o vi ha nel cuore o vi avrà nel cuore certo molti possono aver chiuso e molti non stanno aprendo o meglio stanno aspettando magari qualcuno ma non si accorgono che non stanno aprendo la porta del cuore mentre invece qui arriva proprio una persona che riuscirà ad aprire il vostro cuore alle volte si aspetta qualcuno un partner dal passato o dal futuro e ci si aspetta di appunto essere amati magari l'altro fa qualcosa e noi non siamo contenti qui dice che in questo caso voi credevate di essere aperte o aperti all'amore ma in realtà c'era anche un po' di chiusura vostra le volte non è così consapevole questa chiusura insomma c'era un po' di rigidità ma questa energia che sta arrivando ve la toglie completamente e poi soprattutto questo incontro nuovo passato che sia è una persona che in modo spontaneo e naturale aprirà il vostro cuore andiamo un po' a vedere di più un po' Allora voi potevate scegliere di usare questa energia, questa forza anche per altre cose però qui dice che voi scegliete soprattutto, almeno voi di questa stesa scegliete soprattutto e principalmente l'amore a differenza della prima stesa che parlava anche di talenti qui comunque la vostra realizzazione o almeno in questo momento la vostra massima realizzazione è proprio l'amore, l'amore di coppia perché di questo stanno parlando quindi qui arriva una persona che vuole costruire e come ho detto prima vi aprirà il vostro cuore e assolutamente voi ricambierete al massimo questa persona perché qui abbiamo proprio due persone molto affini, molto compatibili e poi sapete voi chi è del passato o del futuro ecco se siete singolo oppure se aspettate qualcuno dal passato lo sapete voi però questa persona veramente secondo me è questo il dono diciamo la cosa bella che ti arriva dalla vita qui in modo chiaro e netto però prima che questa persona si manifesti nella vostra vita voi avrete grandi intuizioni secondo me anche sui vostri schemi comportamentali è come se voi farete prima di questo incontro un'analisi logica di voi stessi dei vostri comportamenti e forse anche delle vostre diciamo aspettative farete anche tanto movimento in questa vostra intuizione forse la vostra intuizione vi porta anche a spostarvi a andare verso qualcosa o qualcuno non sapete bene perché ma lo farete andrete proprio da qualche parte siete comunque una persona che ha vissuto del dolore anche se siete una donna buona diciamo ma alle volte siete state dure voi con voi stesse invece qui arriva proprio un'intuizione e secondo me voi farete qualcosa di amorevole verso voi stessi ed è quello che vi porterà questa persona così affine a voi è come se voi vi doveste perdonare di qualcosa comunque è qui la persona che arriverà diciamo da voi è una persona che non si presenta così subito sono pazzo di te anche se dietro poi questo comportamento ci sarà invece questa rivelazione diciamo si presenterà come una persona che sta anche un po' sulle sue magari non fatevi ingannare ma ascoltate la vostra intuizione perché secondo me questa è una persona che si presenterà magari come non so come magari non dico un avventuriero però come una persona magari che non ha voglia di una relazione importante che non ha voglia di impegnarsi invece in un secondo momento questa persona si rivelerà per quello che è è come se portasse una maschera forse per conoscervi meglio per sapere come prendervi quindi vi darà un'immagine che non è la sua reale che si rivelerà in un secondo momento e quando si rivelerà quando voi aprirete proprio il vostro cuore e comunque in realtà una persona molto molto sincera è questa e il vostro lavoro il lavoro che avete fatto voi chiamerà proprio anzi la sta già chiamando questa persona vediamo un po a questo punto sì qui dice che tutto quello che voi avete pensato fino adesso che non le potesse accadere ma in senso generale lo dice a un certo punto accadrà perché questa intuizione vi farà mettere appunto un comportamento vi farà mettere proprio appunto un comportamento di specifico qualcosa che vi verrà suggerito secondo me passo passo momento per momento sentirete come un sussurro che potrebbe arrivare anche dalla vostra stessa anima però una specie di sussurro una specie di voce che però arriva sempre da voi ma è come se fossero le vostre parti superiori a darvi questo e voi riuscirete a mettere in pratica proprio lo scassinamento del sogno che in fisica quantistica dice che mettendo appunto tutto quello che ha detto poi la stesa riuscirete ad aprire questa cassaforte quindi a realizzare il vostro sogno in questo caso qui parla di un sogno d'amore prima avete inseguito un riflesso di voi non eravate completamente voi adesso sarete completamente voi voi stesse assolutamente quindi riuscirete proprio in ciò che voi vi aspettate riuscirete proprio a entrare nella vostra più vibrazione più vera quindi carissimi io vi ringrazio dell'ascolto e a risentirci a presto ciao a tutti